abbiamo inaugurato i nuovi cassonetti per la raccolta differenziata del vetro per colore ancora una volta la città di asti è un passo davanti a tutti gli altri abbiamo iniziato con la distribuzione di cassonetti per la raccolta del vetro bianco nella zona sud per ora la raccolta è libera ma a partire dal mese di ottobre i cittadini potranno accedervi attraverso app tag e tessere che distribueremo alla cittadinanza anche nel centro cittadino abbiamo posizionato i contenitori per la raccolta del vetro bianco abbiamo messi a fianco a quelli della raccolta per il vetro colorato la raccolta del vetro bianco il corretto conferimento consente attraverso un processo di riciclo la ricostruzione del vetro bianco inoltre ci permette di spargare energia in materiale sono comodi perché io a casa continuo fare la mia raccolta differenziata mettendo insieme arrivo qua e divido il vetro bianco dal vetro colorato trovo che sia molto semplice poter dividere il vetro colorato dal vetro bianco soprattutto utile ora non ci resta altro che differenziare il vetro bianco da quello colorato e in questo confido davvero tanto nell'alto senso civico di tutti voi astigiani troverete tutte queste informazioni sul sito di asp www.asp.asti.it evitare il vetro e visite